Cambiano le abitudini alimentari dei toscani e cambia anche il carrello della spesa a causa dell'impennata dei prezzi e dell'inflazione. Il dato più evidente la riduzione dei consumi di carne e pesce rispettivamente meno 26 e meno 27 per cento. I dati sono di col diretti toscana che ha effettuato un sondaggio online ma la conferma arriva anche dai dati istat sul commercio al dettaglio nei primi otto mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si riduce del 4,5 per cento la quantità di prodotti alimentari acquistata dagli italiani che spendono comunque il 6,9 per cento in più. Il che in Toscana significa un aumento di 433 euro per i generi alimentari. Per contro i discount registrano un balzo del 9,5 per cento nel periodo gennaio-agosto. Caro gasolio, eventi estremi, distorsioni lungo la filiera e speculazioni nei mercati finanziari. Sulle famiglie si è scatenata la tempesta perfetta, dicono dall'associazione di categoria che punta sugli accordi di filiera per abbassare i prezzi.